La cannabis di stato prescritta dai medici per la terapia del dolore sarà a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Lo prevedono due emendamenti PD-MDP al decreto fiscale, approvati dalla Commissione Bilancio del Senato, che stabiliscono che le preparazioni prescritte dal medico per la terapia contro il dolore siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Lo ha annunciato il relatore, Silvio Lai-PD, in una nota. La norma sulla produzione e trasformazione della cannabis a uso medico, spiega Lai, trasforma in legge il percorso intrapreso dai Ministeri della Salute e della Difesa per garantire la disponibilità in Italia della sostanza a uso terapeutico già prodotta a Firenze dallo Stabilimento Chimico-Farmaceutico Militare. Questa misura, aggiunge, non incide sul bilancio del Fondo Sanitario Nazionale, in quanto il costo complessivo di 2.300.000 euro viene a carico dei fondi di riserva del MEF. Nel dibattito in Commissione, attraverso emendamenti di PD-M5S e MDP, la norma è stata ulteriormente integrata per ottenere numerosi obiettivi. Punto con due emendanti PD-MDP, sottolinea ancora il parlamentare, si è autorizzato il Ministero della Salute a estendere ad altri enti e imprese la possibilità di trasformazione e coltivazione di ulteriori quote di cannabis a uso medico, secondo le procedure già previste dallo Stabilimento Militare di Firenze. Questi enti e imprese ulteriormente autorizzati, aggiunge l'AI, hanno l'obbligo di operare, lo dice un emendamento proposto da tutti i gruppi, oltre che uno del presidente della Commissione Agricoltura Formigoni, secondo l'Ego d'Agricoltura l'Inconnecting Practices GATP. Sono poi stati approvati due emendamenti dell'M5S, conclude il relatore, che dispongono l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sulle potenzialità terapeutiche della cannabis per uso medico, in particolare sul trattamento del dolore. Inoltre, in questi emendamenti viene stabilito lo sviluppo di nuove preparazioni a base di cannabis per la distribuzione nelle farmacie, dietro ricetta medica non ripetibile.